La mutone è l'unica maschera in Italia, forse, di tutte le maschere che conoscono, che non parla. Anche se oggi vediamo che i giovani un po' si lasciano andare a qualche chiacchierata via. E quando ero piccolo era tassativamente, non si parlava. Solo durante la sosta, ogni tanto, serve per prendere fiato, per bere un bicchiere d'acqua o un mezzo bicchiere di vino, che serve solo per ristroncare la sette. La figura, se guardiamo in sé, con la sua gestualità esprime tantissimo, quindi non servirebbe la parola. Parlano i movimenti, parla l'armonia dei campanacci, parla lo scrollare con violenza alle spalle. Non lo vedremo, non è che parte, perché sono altissimamente. Il rapporto con la folla è ottimo. Io dico, per esperienza mia personale, più imponente la folla e più è imponente la voglia di essere presenti e quindi di partecipare a questo evento. Che di sicuro rappresentiamo qualcosa di antico e qualcosa di forte. Qualcosa, cioè si sente dentro qualcosa di naturale, qualcosa di difficile anche da spiegare, di ancestrale, di rappresentare qualcosa di atalico, di vecchio. Però, sempre con un'espressione forte, è più imponente la folla, proprio come dicevamo, e più è grande l'orgoglio di essere presenti. Prima della vestizione, durante i preparativi, mi carica di una tensione che non riesco a scaggiare. Forse perché si vuole che tutto vada bene, che tutto vada in ordine, che i tempi della vestizione non siano lunghi e che si vada quanto prima a fare l'esibizione. E poi c'è il passaggio, l'indossare la maschera. Vedere un mondo diverso, una volta che si indossa la maschera, si vede un mondo diverso. Cioè si vede tutti i movimenti degli altri, lo si vede con più freddezza. Lo si vede con più freddezza perché, quasi come fosse un dio, almeno questo è il mio punto di vista, perché si riesce a cogliere con lo spiraglio del segno degli occhi della maschera. Tutti quei particolari si mettono a fuoco, quei particolari che senza la maschera sembrano normali. E ti dà un potere, un potere magico. La prima volta che ho iniziato a vestire, cioè lo segnalai tramite il babbo a Sio Costantino Azzini perché chi curava tutto lo scenario di Mamutones era Sio Costantino Azzini, un grand'uomo, una figura imponente per Mamu Iada che penso gli debba molto. Quindi ci presentavamo da Sio Costantino Azzini e allora lui usava una tattica un po' particolare la prima volta che uno vestiva. Anziché farlo vestire bene, la faceva vestire male. E lui diceva Inghielo male, aliasso sinnos, esitorno adesso non mamutone puro. Infatti mi fece vestire da altri e mi ricordo di quel che disse e io però per non dare soddisfazione non mi lamentai nulla. a fine esibizione ci avevo lividi dappertutto però poi tornai e infatti Sio Costantino Azzini dice questo è un mamutone e sarà un mamutone per tutta la vita. Sio Costantino Azzini, un mamutone per tutta la vita. Sio Costantino Azzini, un mamutone per tutta la vita. Sio Costantino Azzini, un mamutone per tutta la vita.